C'è sta il signore al centro di Roma incazzato come una iena che sta a strappare tutti sti cartelli delle elezioni europee cartelloni della Meloni, cartelloni della Sinistra, cartelloni dei Cinque Stelle a un certo punto un giornalista gli si avvicina e gli fa scusi ma lei è così veramente incazzato per l'esito delle elezioni politiche ma che cazzo mi frega a me dell'esito delle elezioni politiche io sto a cercare il portone di casa mia